Ancora ritardi sulla bonifica dell'area contaminata di bussi sul Tirino. Da quando la megadiscarica fu scoperta nel 2007, nulla è stato fatto per porre rimedio al disastro. L'unica azione intrapresa è stata quella di ricoprire 185 mila metri cubi di rifiuti chimici e metalli pesanti con il capping, un telo che dovrebbe impedire all'acqua piovana di attraversare i prodotti inquinanti e raggiungere le falde del Tirino. Telo che tra l'altro oggi si presenta smantellato in più punti. E ora la bonifica rischia di rallentare ulteriormente. Il Ministero dell'Ambiente potrebbe annullare la gara d'appalto di quasi due anni fa in cui si delegavano i lavori di messa in sicurezza mai avviati che prevedeva l'allontanamento dei rifiuti a spese della Edison, ritenuta la prima responsabile del disastro ambientale. Inoltre non sono state ancora inserite nel programma di bonifica le aree inquinate scoperte a piano d'orta nel comune di Bolognano. Abbiamo avuto informale notizia circa il fatto che la procedura di gara risalente ormai a quasi due anni fa sarebbe in via di revoca, lo verificheremo, lo accerteremo, ma non possiamo darlo come acquisito questo dato, ma questo sarebbe molto preoccupante. Compreso Bolognano, le altre aree private e pubbliche presentano tuttora elementi di grave rischio per l'ambiente, per le acque, per la salute e noi non possiamo permetterci che questa situazione si protragga ancora senza neanche iniziare l'attività di bonifica vera e propria. Intanto le sostanze pericolose, quali arsenico, piombo e mercurio, continuano a inquinare il suolo e la falda acquifera esponendo al rischio di ammalarsi di cancro tutti i cittadini di bussi, popoli e dell'area metropolitana di Pescara. Si stima che dagli anni 90 siano stati seppelliti sistematicamente circa 240.000 tonnellate di sostanze tossiche e questo senza inserire nel conteggio i decenni precedenti al 1987, l'anno cioè in cui vennero create le discariche, decenni in cui il polo industriale era comunque pienamente in funzione. Il forum H2O, ascoltato ieri in commissione d'inchiesta, torna a puntare il dito contro le istituzioni. Il ministro dell'Ambiente è l'ente procedente per legge nei siti nazionali di bonifica, ma se fa le riunioni una volta all'anno, e questa è stata la media, e in alcuni anni non ha fatto neanche una riunione, beh è difficile portare a casa qualche risultato. Anche sulla trasparenza c'ha grandi problemi il ministro dell'Ambiente, non garantisce ai cittadini l'accesso alle informazioni nei tempi necessari. Poi ci sono delle questioni anche più specifiche, per esempio anche di alcuni enti locali, come la provincia di Pescara che doveva individuare i responsabili della contaminazione delle diverse aree e per troppo tempo non l'ha fatto. Nel frattempo gli inquinanti stanno uscendo nell'ambiente, verso il fiume Pescara, attraverso la falda, il fiume vengono trasportati a valle, addirittura sono arrivati a contaminare l'aria e anche gli alberi, cioè gli alberi intorno al sito sono contaminati essi stessi, i pesci, e questo vuol dire che c'è una situazione molto molto grave.